Ciao e benvenuto in questo nuovo video! Oggi andremo a scoprire insieme alcune caratteristiche e curiosità sulla razza American Stedfordshire Terrier. Prima di iniziare però, ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un bel like! In questo modo aiuterai il canale a crescere e te ne saremo davvero grati! Originaria del 1936, l'American Stedfordshire Terrier è un originario degli Stati Uniti d'America ed è una delle tre varianti della specie American Pitbull Terrier, l'unica riconosciuta dalla FIC e l'unica che può partecipare ai concorsi di bellezza a care canine. È un cane dal portamento importante, muscoloso, agile e molto intelligente, banta un'altezza media che va dai 45 e 48 centimetri per il maschio e dai 43 ai 48 per la femmina, mentre il suo peso medio varia tra i 24 e i 30 kg. Il suo carattere è quello di un cane molto intelligente e molto legato alla famiglia. Riesce ad adattarsi molto bene alla vita d'appartamento anche se ha una riserva di energia e vitalità molto elevata. Per tale ragione è un cane che richiede tante passeggiate e tanto divertimento insieme. Tuttavia non ama stare da solo quindi se lasciato può finire per annoiarsi e diventare scontroso. Meglio invece trascorrere del tempo insieme. Gode di un'ottima salute alleggerendo il padrone da particolari attenzioni e ha un'aspettativa di vita media che varia da un minimo di 10 anni ad un massimo di 15. Anche la cura del pelo non è complessa così come la sua perdita non è esagerata. Un tratto distintivo di questa razza risiede nel coraggio. È un cane davvero molto coraggioso e sempre pronto a proteggere e a difendere la sua proprietà di famiglia. Questa sua caratteristica richiede però una particolare attenzione. Infatti va educata alla sua relazione con estranei e altri cani poiché non è particolarmente socievole di sua natura. Questo indubbiamente la rende una razza più complessa. Se scelta come primo cane in quanto il padrone deve essere un punto di riferimento esperto e solido. Preparati quindi ad avere pazienza e disciplina nell'educarlo e nel fargli capire che cosa è giusto e che cosa invece no. A differenza di altre razze questa può diventare molto aggressiva con le altre finendo per sfociare in spiacevoli situazioni. È fondamentale pertanto comprendere da vicino ogni sua sfumatura in modo da capire se è il cane adatto a te. Un'altra piccola nota dolente dell'American Staffordshire Terrier è la sua scarsa tolleranza alle temperature fredde. Aspetto da tenere in considerazione se vivi in un'area da climi umidi. Nel video di oggi hai scoperto le caratteristiche e alcune curiosità su una razza molto coraggiosa e forte come quella dell'American Staffordshire Terrier. Prima di scegliere il tuo amico a quattro zampe vi invitiamo caldamente ad informarvi sulla storia e sulle esigenze di questa razza e di rivolgervi ad un addestratore che saprà sicuramente consigliarvi al meglio. Se questo video ti è piaciuto ricordati di iscriverti al canale e commenta questo video scrivendo la prossima razza che vorresti vedere. Saremo felici di pubblicare altri video sull'argomento. Per oggi è tutto, se hai imparato qualcosa di nuovo e ti è piaciuto questo video lascia un bel like per supportare il canale ed iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato per le prossime pubblicazioni. Da Mondocani è tutto, ci vediamo nel prossimo episodio, ciao!